Buongiorno, si parte per l'ultima tappa, qual'è l'ultima tappa? Olmo Firenze, passando per Piesole, ci rimaneva anche a guardare un pochettino il paese perché è molto bello Piesole, da quello che abbiamo letto. Quindi percorso di circa 17 chilometri, per arrivare a Piazza della Signoria a prendere l'ultimo timbro. Poi nuovamente vicino alla stazione che ci sta il hotel, la G&B, che ci offriterà. Dicco sotto? Sì, sotto, discesa. Speriamo. Non so se l'hanno capito, spero di sì. E quindi niente, insomma, l'ultima giornata, meteo bruttissimo previsto, ma per il momento regge e vabbè, poi ci ragioneremo durante il cammino. e ciao. Ci siamo. Siamo arrivati a Piesole. Siamo quasi nella piazza principale perché ho visto il campanile. abbiamo fatto una variante, non il sentiero della Via delle Dei, ma un sentiero che va a mezza costa, non se l'incresta, è molto bello, che porta direttamente a Piesole, che è il sentiero del circuito di Abbellino, come si è scritto sulla tabella. Ci sono circa 10 km... Qua. E... ... e... ... tuttaci qua. Sì, io. Ma io devo. Vedi? Il traffico è incredibile. Vedevo la giornata. È arrivato il Fiesole. Sosta e poi Firenze. Ecco in fondo Firenze da Fiesole. Scendendo verso Firenze abbiamo questo bellissimo infaccio sulla città. Città della zona? Non credo adesso no. Siamo americani. Vicino. Near. Siamo al Capolino. Per l'epoca si dice Capolino. Si rivelata di tutto. Ce l'abbiamo fatta dai. In questo termine è andato a buon fine. Il primo del zio. Il primo inzio. Speriamo. E davanti a noi insomma c'è il Duomo. Davanti. Siamo per spatterci di fronte. Lo vedrete che è bellissimo. Dai commenti a caso. Com'è andata questa esperienza? Alla fine non va bene perché come dovrebbero essere le cose anche oggi. Pensiamo che oggi è dalle 6 di mattina a oltranza. E invece ancora arriva niente. E tra poco ancora dovrebbe arrivare. Ci sono le segni. E niente. Il grande è la folla. Per lunedì va detto. Questa per arrivare ce la facciamo. Mi piace. Ma qui qui. Si è riuscita. Che non ci è. Per tutto ciò. C'è. La piazza del Duomo. Vi rwh freed. Io ho avuto inondazioni sui bambini. Io ho avuto inondazioni sui bambini. Io ho avuto inondazioni sui bambini. C'è la piazza del Duomo. C'è la piazza del Duomo. Io ho avuto inondazioni sui bambini. Era lì anche il mio figlio a prendere il braccialato. Tanti per le sezie. Tanti per le sezie. Si persa la signoria per il timbro finale. Siamo arrivati. Piazza Signori della Conclusione. Cammino. Testimonianza. Facciano vedere questi timbri. Vedete? Firenze. Firenze sempre. Ritornerò tra 15 giorni. Ormai ci piso la mano. E va bene, quindi noi vi salutiamo qui. Per Firenze è tutto. Arrivederci al prossimo cammino. Ciao. università. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.